Buongiorno amici miei Stamattina due canne leggere, montatura leggera, esca leggera, di gattino solamente, siamo 15 agosto Vediamo un po' lo spot in Alì, Piazzetta, che poi qualcuno sempre mi chiede Fine del paese di Alì, prima del capo Alì e io sono messo qua Sto riparando anche un po' diciamo riparando perché qua c'è un ballone, una ballata e ancora mi prende, c'è un vento alle spalle abbastanza sostenuto E per questo anche abbiamo questa bella giornata di mare piatto Vediamo Che vi devo dire ragazzi, effettivamente questa c'è, bigattino, coreano, nei negozi non si trova altro O ci avventuriamo con qualche esca naturale, ma per andare dopo Meglio che stiamo nei paraggi di casa e ci facciamo qualche pescatina così Quella a destra ho montato un pasturatore E invece quella a sinistra, piombo scorrevole Ambo di gattino Si spera di vedere qualche pesciolino Ci vediamo dopo Allora ragazzi, visto che a fondo non si dice niente per il momento Ci sono Un po' di pesci di calla che girano Vediamo Magari mi faccio una trainetta Per vedere se riesco a prenderne qualcuno Con una canna L'altra la lasciamo sempre a fondo Per il momento ci sono correnti mischiate Destra e sinistra Perciò È un po' un casino Vediamo se riusciamo a prendere magari qualche aguglia Perciò 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 grazie finalmente partita la canna a fondo grazie a tutti 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 vi saluto